Ai Carabinieri ha mostrato una sorta di album fotografico dell'orrore. In ogni scatto ha immortalato i lividi che il compagno violento le ha lasciato nel corso della loro tormentata relazione. Dopo l'ennesima aggressione a decidere finalmente di denunciare gli abusi che da tempo subiva è stata una donna napoletana soccorsa dai Carabinieri. Si è liberata del peso che da tempo si portava dentro dopo aver ricevuto ancora una volta calci e pugni sferrati dall'ex dopo il rifiuto della donna alla richiesta di tornare insieme. I militari dell'arma si sono precipitati in un'abitazione dei Colle Aminei di Napoli dove hanno trovato la vittima sanguinante con addosso i segni delle percosse appena subite. Calci, pugni fino a farla svenire, testimone sua madre in casa nell'istante in cui la figlia è stata picchiata. Ha provato a strapparla dalle mani del suo ex ma non ci è riuscita. I Carabinieri giunti poco dopo l'aggressione ha accompagnato la vittima in ospedale. 40 i giorni di prognosi prescritti dai sanitari. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti e atti persecutori. Ora è in carcere in attesa di giudizio. Nel fascicolo confluiranno anche le terribili immagini scattate dopo ogni singolo pestaggio sopportato in silenzio.